Quando il capitano dava il comando, adesso vedremo di mettere il fogon, il cucigliere portava il cane a mezza monta per poter pulire il foro, cioè il fogon, con un piccolo ago. Questo fogon si trovava sulla canna al lato del bacinello. Al successivo ordine di Cargar, il cucigliere prendeva la cartuccia dal tasco, porta cartucce, la strappava e lo introduceva nella canna dal cucine. Cargar! Seguiva un successivo ordine di bacchetta, perché il cucigliere toglieva la bacchetta del suo supporto e la infilava nella canna di cucine premendo verso il fondo per fare pressione. Seguiva un successivo ordine di bacchetta a posto per riportare la bacchetta nella propria sede. Bacchetta a posto! Seguiva un successivo ordine di Inestar, in cui veniva aggiunta della polvere da sparo nel bacinello con l'apposito iniettore e veniva alla fine chiuso il bacinello. Inestar! Da qui seguivano gli ordini di armare il cane, di postare e il successivo sparo. Inferno! Armar! Spostare! Impostare! Passar marco! Tirar! Giù? Presidente, porto l'oposizione. Stare, porto. Stare, porto. Stare, porto. Stare, porto. Paqueta Paqueta posto Paqueta posto Paqueta posto Paqueta posto Paqueta posto Paqueta posto Paqueta posto